Musica Sabato 18 maggio 2024, buongiorno, ben ritrovati, buon fine settimana dalla redazione di Teleregioni in apertura della nostra rassegna stampa abbiamo una notizia tragedia nelle campagne Molisale a Macchia Godena in località Caporio, Giovanni Notte, 72 anni, durante i lavori nel campo era andato a tagliare l'erba nel vigneto con la trincia, ha preso un masso e si è ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato, la salma è al Veneziale di Serni a disposizione del magistrato sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l'accaduto Poi abbiamo un servizio al posto del ferro di cavallo per anni centrale dello spaccio di droga abruzzese una grande piazza del lì che il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto aprire la campagna elettorale con lui tutti i candidati e big del centrodestra, Valentina Giarlante Non un luogo a caso quello scelto per l'avvio ufficiale della campagna elettorale ma un simbolo ricco di significato Carlo Masci ha voluto tenere il suo primo comizio nel quartiere più difficile della città, Rancitelli lì dove sorgeva la centrale dello spaccio di Pescara e dell'intera area costiera il ferro di cavallo, abbattuto un anno fa dalle ruspe una battaglia che lo ha visto camminare insieme al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio e anche lui non poteva mancare a questo start molto particolare un vero e proprio show con momenti comici come la parodia di Belve ad opera dell'attore Federico Perrotta ed emozionanti sulle note di gente di mare, un inno per Pescara ormai Lo Stato ha ripreso possesso di uno spazio dove fino a cinque anni fa non poteva entrare e questa è la buona amministrazione e il coraggio di fare di fare cose che servono alla città, che nessuno era riuscito a fare e che invece oggi da sogno sono diventate realtà La determinazione ci porta a ottenere risultati, le parole di Marsilio che, così come tutti i big del centrodestra, Nazario Pagano, Guerino Testa, Lorenzo Sospiri ha speso parole d'elogio per il primo cittadino che punta alla riconferma supportato da sei liste 120 milioni di euro di opere solo negli ultimi anni ha ricordato commosso Masci che all'orizzonte vede l'appuntamento di ottobre con il G7 Noi ospitiamo il G7 sulla cooperazione e sullo sviluppo non deve essere soltanto un fiore all'occhiello, un sigillo, un simbolo il G7 ma deve essere il punto di partenza per far sì che Pescara possa diventare veramente la città dell'accoglienza e degli incontri legati alla cooperazione è ancora un servizio comunale di Campobasso l'Udc c'è e ci sarà in maniera forte assicura il coordinatore del partito in Molise, Teresio Di Pietro la presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco Aldo De Benedittis l'onorevole Cesa, difenderemo l'identità cristiana e porteremo moderazione a Campobasso il servizio di Noemi Galuppo Torniamo in maniera fortissima queste le parole del coordinatore regionale dell'Udc Teresio Di Pietro in apertura della presentazione della lista in campo alle comunali di Campobasso a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Aldo De Benedittis dopo cinque anni di assenza da Palazzo San Giorgio l'Unione di Centro torna sulla scena politica del capologo di Regione L'Udc c'è, ci sarà e credo che ci sarà ancora per tanto tempo siamo rimasti fuori cinque anni dall'elezione in Campobasso però adesso torniamo in maniera forte io dico anzi in maniera fortissima per usare lo slogan di qualche nostro candidato abbiamo presentato una bella lista composita, 17 uomini, 14 donne ci sono tutte le prorogative per un buon risultato Il leader nazionale dell'Udc nonché onorevole eletto in Molise Lorenzo Cesa punta tutto sui valori di riferimento dei centristi identità cristiana e moderazione è una squadra fatta, non so, di gente di qualità ma che crede fortemente nella difesa dei valori che sono dietro il nostro simbolo quindi difendere l'identità cristiana di un paese penso che sia importante diventare la famiglia e la vita e soprattutto essere concreti nell'agire politica è quello che vogliamo fare portando all'interno dell'amministrazione della coalizione di centrodestra moderazione e competenza perché senza la competenza non sei moderato non può essere moderato e questo è il senso della nostra partecipazione L'Udc può contare su 31 candidati a Campobasso invece di 32 perché un posto è stato lasciato libero in onore di Gianluca Gargano volato via è stato un gesto molto bello quello di non chiudere la lista di lasciare un posto libero ricordo di Gianluca questo fa molto onore ai dirigenti locali davvero un gesto significativo che rappresenta anche molto il nostro modo di fare E per la nostra rassegna stampa come sempre partendo dal regionale molisano primo piano molise nell'apertura Roberti bravi medici per migliorare la sanità soddisfatto per gli arrivi eccellenti al Santimoto il governatore guarda oltre e detta l'agenda al lavoro per riorganizzare i non so comi di Serni e Dagnone al Cardarelli qualcosa non funziona i primari come i presidenti di regione non sono a vita poi le altre notizie Campobasso aggredita in centro ragazzina finisce in ospedale palazzo da Immo commissione parità giusi di là l'eletta presidente ancora nel centro pagina furto dei fondi destinati ai bambini malati studenti dal cuore d'oro i ragazzi del Giordano di Venafra hanno raccolto la somma sottratta dei ladri a casa dei genitori di Maria Nucci adolescente scomparsa prematuramente poi ancora Campobasso Galilea l'intelligenza artificiale e gli esperti della Grosca in cattedra al Marconi nel taglio laterale dentro la notizia del lutto volto storico della lotta per la GAM la CGL ricorda Mariano Russo Sgomento a Boiano Campobasso centra tre numeri sulla ruota di Bari e vince più di 13 mila euro al gioco del lotto nel fondo pagina l'apertura della nostra rassegna stampa tragedia nei campi perde la vita imprenditore ai settantenni l'uomo è stato travolto dal trattore in località Capo Rio poi ancora Campobasso frati anni ai misteri del dizino opera e mostra al circolo sannitico l'esposizione del compianto maestro dal 20 al 25 di maggio nel taglio laterale c'è il punto a firma di Vincenzo Musacchio premierato l'Italia non ne ha bisogno il taglio alto dedicato allo sport Campobasso si dividono le strade del club e del trainer siciliano per Golizi eccellenza grande attesa per lo scontro play-out del Boiano e la Lionese CNU inaugurata la 77esima edizione da questa mattina in palio le prime medaglie dalla testata molisana primo piano molise adesso uno sguardo a quelli abruzzesi partendo con il centro nell'apertura i candidati ecco le città che vogliamo Pescara abbracce polemiche al confronto Masci, Costantini, Pettinari e Fusilli nel taglio alto ancora la politica Pescara e Lischlein tira la volata del PD in una piazza gremita ancora la politica del deficit della sanità la regione varia il piano con i tagli molto ridotti le altre notizie con la cronaca violenza in famiglia abusi sessuali su due figlie della ex 6 anni a un teramano a Palti Aslo ora cambia il giudice per Marinelli Pescara la decisione nel centro pagina spiaggia all'asta regione sindaci salvano la stagione per ancora la cronaca minaccia e distorce soldi arrestato San Boceto i carabinieri bloccano in stato un 54enne vittima di un agente di commercio nel fondo pagina il premio Borsellino a Pescara gli studenti ricordano Falcone giovedì in piazza salotto cerimonia per le vittime di mafia calcio di Sarecci dell'Icari al Pescara un passo dal rinnovo ancora le testate regionali abruzzesi questa volta con la pagina d'Abruzzo del messaggero nel taglio alto c'è la politica via al duello Masci-Costantini Pescara è il primo cittadino uscente a caccia del vis si presenta vincerò al primo turno il rivale del campo largo lo attacca sulle scuole con voi ci sono state soltanto chiusure europee e comunali Schlein lancia la volata del centro da sinistra in Abruzzo otterremo un grande risultato il focus fuori di cervelli l'allarme nel rapporto Istat aveva ancora Giulianova frecce e tricolori la notte bianca show in Riviera nel taglio medio la cronaca morta in un festino il PM condannato il commercialista lui aveva simulato il suicidio della fidanzata da quattro anni in primo grado chiesta la convalida Teramo violenta le figlie della ex compagna sei anni di carcere nel centro pagina nuove regole per gli esercenti locali de or fissi per la legge i comuni varano gli indirizzi nel fondo pagina novità al Tez di Pescara le regole per vivere meglio poi nel taglio laterale la gastronomia abruzzese va a nozze con lo sport sensazioni fossa accese a mette in mostra i migliori prodotti del territorio abruzzese nel taglio alto l'aquila vandali rotto il tridente della fontana del Nettuno per ancora sanità a caso Marinelli giudice ricusato il dibattimento riparte da zero poi lo sport con la serie C Pescara Fiorillo pronto al ritorno in bianco azzurro dalle pagine regionali passiamo adesso a quelle nazionali partendo con la prima della Repubblica nel taglio alto Toti scontro con i giudici la tangentopoli Ligure si apre un nuovo fronte con il racconto di Spinelli Junior al GIP il governatore faceva sceneggiate e pretendeva fondi illeciti ma gli avvocati errore ha detto illeciti la procura sull'interrogatore del presidente quanto sentirlo lo stabilisce il PM l'alcondono dello sport e corse decreti il Colle pronto allo stop poi ancora nel centro pagina diritti LGBTQ+, l'Italia non firma il patto europeo poi nel taglio laterale Germania il candidato AFD le SS non erano tutte criminali dalla Repubblica uno sguardo alla prima pagina del messaggero statali fuga dal posto fisto il titolo nel taglio alto stipendi bassi scarsa innovazione la pubblica amministrazione non attira più i giovani solo nei ministeri mancano 40.000 dipendenti la top aumenta l'età della pensione poi il volto Rai si è spento a 68 anni per un tumore addio a Franco Di Mare il cuore della diretta le altre notizie nel taglio medio interrogate subito toti scontro centrodestra PM da Salvini a Zangrillo la richiesta di accelerare sull'inchiesta a procura decidiamo noi quando sentirlo non la politica poi la guerra commerciale nei credit nella trappola russa sequestrati bene per 463 milioni di euro dal messaggero uno sguardo alla prima pagina del tempo nella centropagina Chico Forti oggi in Italia la notizia atteso ritorno a casa dopo 24 anni la vittoria di Meloni il volo da Miami il Falcon 2000 atterrerà a pratica di mare poi andrà in carcere a Verone il documento inedito gli 11 dubbi del PM la lettera ignorato nuovo giallo riapre il caso di Emanuele Orlandi il tempo di Osho omofobia l'Italia non firma vannacci i gay mi voteranno dal tempo uno sguardo alla prima pagina del fatto quotidiano Putin spezza la Nato il titolo nel centropagina piano con Pechino per ripartire dai negoziati di Istanbul del 2022 Kiev risponde no lo Zare rilancia i patti post-invasione fatti saltare da Johnson e in palla il vertice in Svizzera Zelensky rifiuta Zitti USA ed Unione Europea nel taglio alto in parco undicio Mazzè il conduttore ha resumato la RAI DB Gioomi Agicom sul duello da Vespa servirà più severità dal fatto quotidiano uno sguardo alla prima pagina del manifesto sotto un ponte il titolo nel centropagina ma anche il progetto definitivo ma la macchina delle espropie in moto cittadini e comitati oggi in piazza a Villa San Giovanni per salvarle la casa e la vita delle comunità da un grande affare destinato però a rimanere incompiuto nel taglio alto Madrid rifiuta l'attacco alla prima nave e annuncia lo faremo con tutti i porti spagnoli chiusi alle armi israeliane dal manifesto uno sguardo alla prima pagina del tempo nel taglio alto Siluro alla Presidente della Commissione OE così non è candidabile via il processo contro Pfizer e Unione Europea nel centropagina poi Polpettone avvelenato piomba sul caso Toti nel corso del suo primo interrogatorio il figlio di Aldo Spinelli parla di finanziamenti illeciti ma viene trascritto illeciti e scoppia il putiferio è ancora nel centropagina partito all'assalto per imporre l'etanossia 53enne testina fa ricorso all'ASL le neghe il suicidio assistito i radicali accorrono l'obiettivo è abbattere il paletto della dipendenza dei manchinari aprendo la deriva olandese basta essere depressi poi ancora Bergoglio Benilli pare il fiume di Alvore l'ultima trovata del Papa celebrare l'angelus assieme al piccolo diavolo da la verità uno sguardo al quotidiano economico del sole 24 ore nel taglio alto distrutte dozzine di case nel nord della striscia l'Italia altri 12 paesi a Israele fuori da Raffa duri scontri a Gaza il reportage in Georgia i giovani a capo delle proteste contro la rossificazione le altre notizie dei bonus 2 miliardi ai falsi crediti nelle mani delle cosche mafiose la stima dell'antimafia cessioni lecite di bonus edilizi con la complicità anche dei professionisti truffe che finanziano traffici di droga con risorse sottratte allo Stato poi nel centro pagina la borsa di Londra cerca il rilancio dopo la Brexit del 2016 l'istino è scivolato al ventunesimo posto al mondo nel taglio laterale panorama per il voto del 2022 legge elettorale la Corte Europea di Diritti Umani ammette il ricorso in chiusura come sempre uno sguardo al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport nel centro pagina ovviamente l'esonero di Massimiliano Allegri tecnico della Juventus o meglio ex tecnico della Juventus tra Allegri e la Juve è la fine più brutta fuori pugno duro della società comportamenti non compatibili lunedì con Montero retroscena comanda giunto lì ecco come sarà la signora di Tiago Motta che ormai sicuro allenatore della Juventus OCTRI pronto a prendere il club Inter Zang sul filo il fondo PIMCO si allontana l'attuale finanziatore in agguato la situazione della crisi societaria dell'Inter poi la situazione del Milan invece col mercato allenatore avanti tutta c'è Fonseca al telefono il Milan chiama il portoghese e spunta scaloni dopo il 2 a 2 l'Eurotoro ci prova stasera il diavolo con la vittoria può sperare poi nel fondo pagina c'è anche un riferimento al Giro d'Italia che è Tris Tris a 100 oggi trono su gara e Ganna può volare 3 Milan poi dalle 16 la griglia Imola rossa nuova Ferrari pole position possibile prima di chiudere uno sguardo anche il nostro palinsesto ore 11 contro la rovescia 12.50 slow tour alle 14 la nostra informazione diretta con il telegiornale 16.15 contro la rovescia 19.30 le nostre informazioni con il telegiornale alle 21 spettacolo teatrali le due sorezzetelle alle 22.40 festa dei banderesi Bucchianico e alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale si conclude così la nostra rassegna stampa vi ringrazio per averci scelto tutti voi un buon proseguimento di giornata